Salve amici del Centro Meteo Italiano, forte ondata di maltempo in arrivo sull'Italia con precipitazioni molto intense quasi ovunque. Vediamo quindi nel dettaglio le previsioni per giovedì 4 giugno. Al mattino molte nubi al settentrione sulla Toscana con piogge sparse anche a carattere temporalesco su Alpi centro-occidentali e Liguria. Al pomeriggio temporali e locali nubi fragili in estensione a gran parte del nord Italia con precipitazioni meno intense soltanto sull'Emilia, più asciutto al centro-sud. In serata è in nottata maltempo diffuso sulle regioni centro-settentrionali e in Sardegna con precipitazioni molto intense al nord-est e sull'alto tirreno. Temperature minime in generale aumento, massime in diminuzione al centro-nord. Tutte le previsioni dettagliate per le vostre località le trovate sul nostro sito oppure sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.